Napoli rapina con sequestro 40 minuti di terrore in azione in banca a Chiajano una coppia stile Bonnie e Clyde lui pistola in pugno ha sequestrato dipendenti e clienti per aspettare l'apertura della cassaforte a tempo lei fuori faceva il palo traditi dai video sono stati presi sotto usura dopo il covid fa arrestare lo strozzino i carabinieri di pianura Napoli hanno messo fine all'incubo di un imprenditore costretto a rivolgersi a un usuraio per far fronte ai debiti contratti durante la pandemia il blitz all'incontro per la consegna della rata San Gennaro è il giorno del miracolo di maggio attesa Napoli per la celebrazione del patrono della città oggi il primo dei tre miracoli che il santo compie con la liquefazione del sangue alle 17 la tradizionale solenne processione con l'arcivescovo battaglia postiera torna il bel tempo di nuovo folla gli imbarchi riparte il turismo nel salernitano al molo masuccio in città sole e caldo richiamano migliaia di turisti diretti nelle località della divina buono il bilancio di questo lungo ponte e ottime le previsioni per il weekend avellino verso il voto si ricompatte il campo largo il candidato sindaco Gengaro recupera l'appoggio delle liste di app più europa insieme per avellino oltre al mondo dell'associazionismo giovanile nel centro-destra ancora divisioni mentre i fedelissimi di festa attendono il riesame spopolamento e tagli sos per le aree interne zess unica e fondi di sviluppo e coesione che non arrivano è la denuncia della filt cgl di avellino e benevento che tuona contro le ultime decisioni del governo e chiama la mobilitazione i parlamentari sul dramma delle aree interne eccoci questi erano i titoli della nostra copertina buongiorno bentrovati con l'informazione regionale di 8 channel in apertura andiamo a chiaiano per la cronaca questa mattina una rapina con sequestro terrore e paura per i clienti di una banca sequestrati per 40 minuti da due rapinatori in stile bonnie e claud ma sono stati presi vediamo rapina in banca stile bonnie e claud coppia di napoletane in manette mentre lui teneva in ostaggio dipendenti e clienti per 40 minuti la complice era in auto in attesa della fuga è accaduto a napoli in via emilio scaglione strada trafficata nel quartiere chiaiano questa la ricostruzione degli investigatori una coppia si presenta all'ingresso di una banca la donna rimane fuori in strada e il palo l'altro sfila la pistola un coltello dai pantaloni e grida minacciando clienti e dipendenti l'uomo sequestra tutti i presenti attende con loro 40 minuti il tempo necessario a sbloccare la cassaforte temporizzata dell'atm il rapinatore costringe uno degli impiegati a svuotare il bancomat e racimola poco più di 12 mila euro col sacco carico di contanti faccendo alla complice che il loro lavoro è finito e insieme si allontanano allertati al 112 sul posto arrivano i carabinieri del nucleo operativo vomero e della stazione marianella gli basteranno pochi frame delle immagini di videosorveglianza per riconoscere giuseppe merolla 38 anni di scampia e ai domiciliari e il suo volto i militari lo conoscono bene riconoscono anche giuseppina ceto la sua compagna quarantenne i due vengono raggiunti a casa e arrestati nell'appartamento sono stati recuperati cappellino e passamontagna utilizzati durante la rapina una revolver salve con 25 cartucce e 1520 euro in contante ritenuto provento illecito entrambi sono finiti in carcere in attesa di giudizio dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona la pandemia aveva dato il colpo di grazia alle finanze di un imprenditore napoletano le spese crescenti il calo degli affari l'avevano spinto a chiedere aiuto ad un usuraio 1000 euro il primo prestito accettato nonostante il tasso applicato del 40 per cento il vortice di interessi non si è mai fermato per quanto la restituzione di prestito e tassa fosse stata ampiamente garantita così la vittima si è ritrovata a chiedere altro denaro dopo tre anni circa a fronte di un prestito concreto di 5.700 euro l'imprenditore ha corrisposto al suo finanziatore oltre 26 mila euro vincolato ad un cappio di debiti in aumento la vittima ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri i militari della stazione di pianura si sono presentati all'incontro per la consegna del denaro arrestando lo strozzino un napoletano di 40 anni nella sua abitazione militari hanno ritrovato oltre 50 mila euro in contanti e cambiamo argomento sui fondi per la bonifica di bagnoli si apre lo scontro istituzionale tra il governatore De Luca e il sindaco Manfredi il governatore ha invitato il sindaco a smentire le illazioni di fratelli d'italia sugli incarichi ai docenti della federico secondo ma il primo cittadino replica evitiamo le polemiche vediamo è pesante l'area che tira tra santa lucia e palazzo san giacomo il governatore De Luca ha lanciato il primo guanto di sfida nel corso della sua diretta social invitando Manfredi a smentire le illazioni di fratelli d'italia sugli incarichi ai docenti della federico secondo De Luca si è soffermato sulla notizia dello stanziamento di un biliardo e duecento milioni per completare la bonifica di bagnoli una buona notizia dice il presidente se non fosse per un dettaglio non si sa ancora da dove arriveranno questi fondi il governo ha fatto fatica a trovare cento milioni di euro per il bonus di cento euro figuriamoci un miliardo e duecento milioni la notizia è di quelle veramente belle che creano entusiasmo salvo questo dettaglio chi li caccia questi soldi questo non ce lo hanno voluto dire per non turbarci diciamo così il timore dello sceriffo è che questi soldi siano presi dai famigerati fondi di coesione destinati alla campagna e bloccati da più di un anno e per i quali anche fatto la manifestazione a roma con i sindaci tutti i sindaci tranne Manfredi il primo cittadino di napoli si è sempre tenuto fuori dal ring senza prendere parte anche stavolta Manfredi prova a smorzare i toni non raccoglie la sfida e ai cronisti dice di non farsi distrarre da dibattiti improduttivi a margine degli incontri promossi dal quotidiano domani Manfredi dice di essere concentrato unicamente sulle cose da fare per napoli e la città metropolitana e sottolinea stiamo raggiungendo risultati importanti affrontando tematiche che sono bloccate da decenni ad esempio il caso di bagnoli è una di quelle e quindi non mi faccio distrarre da altro ha detto il sindaco e restiamo a napoli dove c'è attesa per la cerimonia di questo pomeriggio al duomo in attesa appunto del miracolo di maggio di san gennaio vediamo un momento di profonda fede ma anche un rito ricco di storia cultura e tradizione in napoli si prepara a vivere le celebrazioni per il miracolo di maggio di san gennaio patrono della città questo pomeriggio infatti è previsto il primo dei tre prodigi annuali con la liquefazione del sangue del santo gli altri sono il 19 settembre nel giorno del martirio ed il 16 dicembre nel giorno del miracolo laico questo pomeriggio dunque dalle 17 il via la tradizionale processione del busto di san gennaio e delle ampolle contenenti il sangue del martire dalla chiesa cattedrale alla basilica di santa chiara un corteo che si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del santo dal cimitero nell'agro marciano nel territorio di fuorigrotta alle catacombe di capodipunte l'arcivescovo don mimo battaglia dopo essersi regato nella cappella del tesoro accolto dalla bate prelato monsignor vincenzo de gregorio e dalla deputazione presieduta dal sindaco gaetano manfredi procederà all'apertura della cassaforte che custodisce le reliquie del santo verranno portati in processione anche i simulacri di alcuni santi compatroni della città il corteo processionale si snoderà per via duomo proseguendo lungo via san viaggio dei librai piazza san domenico maggiore via benedetto croce fino alla basilica di santa chiara per tutta la settimana seguente nella cappella del tesoro ogni giorno sarà venerata la teca contenente le ampolle del sangue di san gennaio folla agli imbarchi per la costiera amalfitana il bel tempo richiama migliaia di turisti diretti nelle località della divina buono il bilancio di questo lungo ponte sono ottime anche le aspettative vediamo torna il bel tempo in campagna e si affollano nuovamente le località di mare tanti turisti che prediligono i traghetti per evitare caos e traffico code agli imbarchi al molo masuccio di salerno escursioni gastronomia locale spiagge attraggono i visitatori da vietri fino ad amalfi e positano siamo qui da tre giorni ci siamo presi tutta l'acqua e finalmente un bel sole quindi perfetto stiamo andando da amalfi siamo già da due giorni qui realmente ieri siamo andati a sorrento e oggi ne approfittiamo del bel tempo per poter vedere la costa via mare da dove venite? dalla Puglia siamo vicini noi siamo maltesi oggi facciamo un giro con il trighetto vediamo la costiera dal mare diciamo ci siamo stati a Sorrento Positano era strapieno qua è più quieto salerno vietri è bellissimo la costiera è molto bella ma è troppo ci sono troppi turisti per parcheggiare un problema oggi proviamo il trighetto ma è un bel paese il cibo è molto buono e la gente è molto simpatica e ti aiuta il maltempo ha rovinato alcune giornate di questo lungo ponte ma si è riusciti a recuperare è stato abbastanza bene questo fino a 30 aprile diciamo già il primo maggio il mare non ci ha accompagnato diciamo che oggi abbiamo ripreso un'altra volta a pieno ritmo ieri abbiamo fatto solo amalfi le 11.40 ci siamo dovuti fermare perché purtroppo il mare si è messo proprio male la sezione criptovalute del comando carabinieri antifalsificazione monetaria ha completato con successo la prima operazione di conversione in euro di beni confiscati in monete digitali l'attività è conseguente al sequestro di bitcoin e monero per un controvalore di circa 11.000 euro avvenuto nel gennaio del 2023 quando la prima sezione operativa di Roma e la sezione criptovalute hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di persone residenti a Napoli sospettate di appartenere a un gruppo criminale dedito alla contraffazione valutaria le indagini coordinate dalla procura di Napoli e condotte con la collaborazione di Eurojust ed Europol fanno parte di un ampio contesto investigativo iniziato nel 2018 mirato a smantellare una rete di distribuzione di banconote contraffatte attraverso il dark web canali telegram e il trasferimento di criptovalute come i bitcoin su wallet dedicati l'autonomia differenziata penalizzerà anche i trasporti già oggi la campagna ha meno risorse rispetto alle altre regioni del nord con la riforma si rischia un ulteriore taglio e questo l'allarme è lanciato da Umberto De Gregorio alla guida di Eav la stazione marittima di Napoli ha ospitato un confronto sui temi del trasporto pubblico locale al tavolo con il presidente della regione campania Vincenzo De Luca anche la guida di Eav Umberto De Gregorio per il manager la riforma dell'autonomia differenziata rischia di penalizzare anche il sistema di trasporto nel trasporto pubblico locale mentre un cittadino della Lombardia ha dalle risorse pubbliche 153 euro un cittadino della Campania ha 103 euro quindi c'è già un sottofinanziamento del settore nel mezzogiorno il timore fondato è con le nuove norme questo divario che già esiste e che è stato accentuato negli ultimi 15 anni possa ulteriormente aggravarsi provocando un taglio di risorse che è stimabile in 100 milioni di euro che vorrebbe dire il quinto di servizi in meno rispetto a quello che facciamo oggi che già è poco non solo dunque la salute e la scuola i rischi riguardano persino le infrastrutture dal momento che la definizione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni è ancora in alto mare allora io credo che ci sono dei punti fermi da mettere A. meno di quello che oggi prendono le regioni del mezzogiorno non possono prendere B. quello che oggi prendono è inadeguato rispetto agli investimenti che si stanno realizzando C. non è giusto che un cittadino del mezzogiorno non possa soffrire a parità di condizioni di risorse adeguate a livello di servizi che hanno i cittadini del settentrione A Avellino adesso si ricompatta il campo largo A. più Europa insieme per Avellino con il mondo dell'associazionismo giovanile rilanciano la battaglia per la città con il candidato sindaco Antonio Gengaro Nel centrodestra ancora divisioni mentre i fedelissimi di festa attendono il riesame lunedì Vediamo Il centrosinistra ritrova la completa unità alla vigilia della presentazione delle liste per le amministrative di giugno Il candidato Antonio Gengaro sarà dunque affiancato oltre che da PD 5 Stelle si può il controvento anche dal gruppo di app più Europa e insieme per Avellino Questa mattina la conferenza stampa che stancisce il sostegno al progetto del campo largo Noi vogliamo dare concretamente un cambiamento di passo rispetto al governo di questa città coinvolgendo donne e under 40 attivando gli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione garantire l'apertura della casa delle donne Insomma sono davvero tanti temi sui quali vogliamo lavorare e vogliamo impegnarci Abbiamo trovato la massima apertura, riteniamo indispensabile in questa fase politica fare sintesi anche rispetto a posizioni che avevano delle differenze Siamo convinti che anche grazie al nostro contributo insomma questa coalizione ampia, larga e plurale possa dare rappresentatività a quelle che sono fette di città che oggi non vengono rappresentate Lunedì la presentazione ufficiale del progetto politico del centrosinistra con i big del partito Boccia e De Luca ma lunedì è anche il giorno della verità per i festiani che attendono l'esito del Tribunale del Riesame per sapere come portare avanti l'eredità amministrativa In caso di revoca degli arresti domiciliari Gianluca Festa potrebbe decidere infatti di tornare nel lagone politico Nel frattempo il centrodestra cammina in ordine sparso Fratelli d'Italia correrà come destino Iandoli L'Udc con Gennaro Romei e Forza Italia, Competito e D'Agostino virano sul rino genovese ZES unica, fondi di sviluppo e coesione che non arrivano e svuotamento del fondo perequativo infrastrutturale nel mirino della Filt CGL di Benevento e Avellino che tuona contro le ultime decisioni del governo Sentiamo La Filt CGL Avellino Benevento insorge per le aree interne per la sottrazione di fondi in particolare di quello perequativo infrastrutturale che era stato stanziato per ridurre il gap infrastrutturale tra sud e il resto del paese e che dagli oltre 4 miliardi previsti originariamente si è arrivati a circa 900 milioni stanziati Questo fa capire qual è il piano politico per il sud perché questi fondi erano stati destinati proprio per il gap infrastrutturale tra il sud e il resto del paese Poi immaginiamo cosa potrebbe accadere nelle aree interne visto che sono quelle aree già fortemente penalizzate Il segretario generale della Filt CGL Avellino Benevento poi accende i riflettori sulle scelte del governo che ha istituito la ZES unica ingolfando i procedimenti e lancia un monito Restiamo basiti in una cosa è che al vantarsi di questa situazione un senatore residente nelle aree interne un senatore che dice che oggi per il mezzogiorno arrivano risorse certe che cambieranno il destino di queste aree Il nostro auspicio è quello che magari fosse così Aree interne da tutelare per la Filt CGL come per Confindustria che proprio ieri durante la presentazione del rapporto PMI aveva lanciato un appello al governo affinché varie misure idonee per le zone che più soffrono la marginalità Torniamo a Salerno Centro storico abbandonato, sporco negozi chiusi il primo maggio, turisti spaesati è la denuncia che arriva dal comitato Salerno Mia che chiede più attenzione da parte del comune Vediamo Turisti spaesati, tra monumenti chiusi saracineschi abbassate e degrado nei vicoletti salernitani non una bella cartolina quella consegnata ai visitatori che il primo maggio si sono avventurati in città tantissimi quelli scesi dalle navi da crociera carenti anche i servizi e i trasporti tra i problemi più impellenti la pulizia e il decoro del centro storico come lamentano i residenti Il controllo del servizio pubblico sui rifiuti è pari a zero nel senso che continuamente si trovano depositi per esempio il fatto che il comune abbia autorizzato questi due carrelli qua che sono pieni, stratieni la gente deve trovare il modo come gettare i rifiuti Uno spettacolo mortificante accusa Dario Renda del Comitato Territoriale Salernomia I problemi del centro storico sono sempre gli stessi le soluzioni trovate dall'amministrazione sono ovviamente praticamente non vanno bene sono fasulle parlano di telecamere parlano di fototrappole si parla di guardie ambientali ma noi non li abbiamo visti i problemi sono sempre gli stessi sempre negli stessi luoghi immondizi ovunque, topi ovunque ci sono deiezioni canine ovunque certo dipende dall'inciviltà delle persone ma dipende anche dalla capacità dell'amministrazione a dover trovare delle soluzioni valide quindi anche soluzioni che siano mettere un personale che faccia un controllo del territorio e riacquisisca la fiducia e il controllo del territorio dei cittadini per la sensibilità di tutelare i cittadini di questa città che hanno bisogno di vivere meglio e di vivere in una città pulita, sicura e tutelata Torniamo ad Avellino il saluto del prefetto Paola Spena che dopo quattro anni e mezzo lascia la città tante le emergenze affrontate ha detto dal covid dai migranti il bilancio in questo servizio Quattro anni e mezzo lunghi e intensi il prefetto di Avellino Paola Spena lascia l'incarico della guida del palazzo di governo per un nuovo e prestigioso incarico presso il ministero dell'interno Ieri sera, cerchiata da amici e colleghi ha voluto salutare la città di Avellino Dal covid dai migranti le emergenze sono state tante da affrontare Credo che tre cose riassumano diciamo quello che io ho voluto mettere in campo per realizzare gli obiettivi di un prefetto che sono il raccordo tra i livelli territoriali il coordinamento con forze dell'ordine istituzioni e la legalità Credo che questo sia stato messo in campo attraverso lo stare insieme attraverso la prossimità quindi la vicinanza al territorio Un piccolo passaggio sull'inchiesa che ha coinvolto il comune di Avellino Trovo in realtà molto importante che in questo contesto che sicuramente preoccupa la circostanza che si vada prestissimo ad elezione perché questo consente ai cittadini sulla base di quelli che saranno i candidati di poter subito fare una scelta e poi l'unico rammarico non aver riaperto il centro autismo Ho provato diciamo a far convergere ecco due posizioni che hanno mantenuto poi ciascuno per ragioni legittime la loro impostazione sono convinta che chi prenderà la guida del comune avrà tra gli obiettivi prioritari questo perché è davvero un peccato che per pochissimo non si realizzi quello che è un bisogno che ormai è quasi ventennale La strage di Capaci la lotta alla criminalità nel ricordo delle vittime innocenti al centro di un incontro questa mattina a Benevento con gli studenti Vediamo Rivivere e comprendere uno degli avvenimenti storici che ha indelebilmente segnato la storia d'Italia La strage di Capaci del 23 maggio del 1992 al centro dell'incontro ricordo e memoria in programma Benevento all'Istituto della Salle promosso dalla scuola con la presenza dell'Associazione Libera per gli studenti la testimonianza di Matilde Montinaro la sorella di Antonio Montinaro capo della scorta del giudice Giovanni Falcone che con lui perse la vita nell'attentato Noi familiari abbiamo cercato di trasformare il dolore in quell'impegno che porta proprio al racconto di quelle storie perché io dico sempre che è troppo facile considerarli eroi un appellativo che prima ad Antonio non sarebbe piaciuto considerarli eroi significa significa metterli su un piedistallo e fornirsi un alibi per non fare nulla invece raccontare le loro storie riportare al cuore la storia di Antonio significa farlo scendere proprio da quel piedistallo e farlo diventare anche uno di loro quando si racconta la storia di Antonio Ragazzo E dunque la vita di Antonio ucciso a soli 29 anni poco più di un ragazzo che dopo l'incontro con Falcone seppi affrontare grandi responsabilità Ecco il messaggio che porto loro è proprio non solo quello della memoria che è importantissimo ma quella della responsabilità di un ragazzo che a soli 25 anni quando ha scelto di farsi aggregare in quella città che era una città abbastanza pericolosa come quella di Palermo ha dato esempio della sua responsabilità e di etica nel suo lavoro Bene, con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Michele Urciolo grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti